Un'equip multidisciplinare per curare una delle patologie tumorali più diffuse negli uomini, quella alla prostata. Si tratta della Prostate Unit, creata all'interno di ASST Valtelline Altolario, sul modello della Breast Unit, già esistente per la cura del cancro al seno nelle donne. Tre le unità operative complesse coinvolte, ovvero urologia, oncologia e radioterapia oncologica. I medici della unit si riuniscono per esaminare i casi clinici, adottando un approccio multidisciplinare che consente di valutare la situazione del paziente al quale è stato diagnosticato il tumore alla prostata, partendo dalla sua storia clinica per giungere alla definizione delle opzioni terapeutiche e proseguire con il follow-up. Il tumore alla prostata è secondo soltanto a quello ai polmoni per diffusione tra gli uomini in Italia. Sono 37.000 nuovi casi riscontrati ogni anno, il 19% di tutti i tumori maschili. Colpisce in particolar modo gli ultra 65 anni, ma negli ultimi anni si sta evidenziando una progressiva diminuzione dell'età dei pazienti. Esaminiamo tutti i casi che si presentano nelle diverse strutture che afferiscono alla SST Valtelline Altolario, evidenzia il dottor Pierluigi Giumelli, primario dell'urologia. I pazienti possono contare su un punto di riferimento chiaro, certi che le diverse terapie saranno esaminate allo scopo di individuare la migliore oppure l'associazione migliore fra queste. L'offerta è di alto livello perché anche dal punto di vista chirurgico offriamo tutte le possibilità per un intervento appropriato. Di volta in volta le riunioni interdisciplinari saranno allargate, oltre che agli altri medici delle tre specialità, anche all'anatomopatologo, al radiologo e allo psicologo. In relazione allo stadio e all'aggressività del carcinoma alla prostata, attraverso esami del sangue e diagnostica per immagini, l'equip multidisciplinare valuta la situazione e definisce il percorso di cura più adatto anche in considerazione degli effetti collaterali e delle conseguenze sul benessere fisico e psichico del paziente. Il metodo di lavoro è ormai consolidato dall'esperienza maturata per altre patologie tumorali, sottolinea il dottor Alessandro Bertolini, direttore dell'oncologia. Rispetto al cancro al seno, per la prostata l'approccio è diverso, poiché ci confrontiamo sui casi dopo che si sono manifestati e sono stati diagnosticati presso l'urologia. Questo lavoro condiviso si tradurrà in un miglioramento delle qualità delle prestazioni. Grazie alle nuove apparecchiature introdotte negli ultimi due anni, aggiunge il dottor Claudio Barbonetti, numero uno dell'unità di radioterapia oncologica, siamo in grado di offrire cure al passo con i tempi, a livello dei più importanti ospedali della Lombardia. Per il tumore alla prostata utilizziamo la radioterapia stereotassica corporea che, oltre a garantire un miglioramento del controllo e della cura della malattia, attraverso l'erogazione di dosi più elevate per seduta, consente di ridurre gli effetti collaterali e il numero delle applicazioni.